Attenzione ragazzi, in questo video, seppur piccoli, potrebbero esserci degli spoiler. Se non avete ancora visto il film, rimandate la visione del video a quando lo avrete visto. Se invece lo avete visto, vi auguro buona visione e spero che il video vi piaccia. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlight Books. Nuova recensione filmosa, diciamo così. Quindi, quando feci la reaction al secondo trailer di Avengers Endgame, ho messo un sondaggio in cui chiedevo se vi andava la recensione del film. E ha vinto il 50-50, forse perché appunto avevate paura degli spoiler, giustamente. Ma visto che quel 50, comunque, mi ha fatto capire di volerla, ho deciso di farla. Ho messo comunque l'avviso, attenzione ai possibili spoiler. Comunque, è passato un po' di tempo, quindi spero vivamente di non spoilerare niente a nessuno. Magari mi limiterò, ci proverò, a dire quello che penso io. Avengers Endgame, appunto, segna la fine di un'era, la fine dei giochi, come dice il titolo. Anche perché è l'ultimo film dedicato proprio alla saga degli Avengers, che era cominciato appunto con The Avengers, poi c'è stata Avengers Age of Ultron, poi Avengers Infinity War, che ha spaccato, diciamo, i cuori di tutti i fan della Marvel, e poi adesso appunto abbiamo questo Avengers Endgame, che si vede proprio che segna la fine del cerchio, che era iniziato con The Avengers. Abbiamo appunto, il film riprende praticamente subito dopo gli eventi che hanno segnato Infinity War, poi sono ventina di giorni dopo. E in questo film abbiamo anche, finalmente, diciamo, anche se si vede poco, ma penso che sia stata una scelta proprio fatta apposta, di Captain Marvel, che appunto lei ha salvare Tony e Nebula, che sono spersi nello spazio senza più carburante, senza più cibo né acqua. Vediamo appunto anche Steve Rogers, Captain America, Natasha Romano, fra vedova nera, Iron Patriot, ovvero Rhodes, che stanno facendo il punto della situazione, ovvero che Thanos con lo schiocco dei diti in Infinity War ha sterminato il 50% di tutti gli esseri viventi nella galassia. E abbiamo anche Thor, ecco, scusate, me ne ho dimenticata di Thor. Li vediamo fare un po' il punto della situazione, cercare appunto di riportare le cose a posto. Vanno alla recerca di Thanos, insieme a Captain Marvel, che, se avete visto il film, Captain Marvel è l'eroina più potente dell'universo Marvel, perché ha dentro di sé l'energia del Tesseract. Quindi è super overpower. E li vediamo appunto andare a cercare Thanos, ma Thanos ha distrutto le gemme dell'infinito, e quindi non si può più fare niente. Thor lo uccide, decapitandolo, e passano cinque anni. Abbiamo un salto temporale pazzesco. Vediamo Captain America, che, diciamo, fa quello che faceva Sam in Winter Soldier, ovvero dà sostegno a tutte le persone che hanno perso i loro cari per colpa di Thanos. Vediamo Tony, Donnie Stark, che si è sposato con Pepper, e ha avuto una bambina. Vediamo Natasha, che comunque cerca di, insieme ad altre persone, tipo Rocket, abbiamo appunto, vediamo anche Rocket, dei Guardiani della Galassia, che è l'unico rimasto, perché tutti gli altri sono spariti o sono morti. Che comunque questi eventi, diciamo, ci sono degli eventi che stanno devastando un po' tutto l'universo. E la vediamo cercare di tenere in piedi le cose, però è da sola. Quindi abbiamo appunto, abbiamo poi anche, qui tornerà anche Occhio di Falco, che ha visto sparire tutta la sua famiglia, ed è diventato un assassino spietato, che ammazza tutti i cattivi, ecco, praticamente. Diciamo che va un po' schifio, finché non vediamo di colpo, in una maniera anche un po' ridicola, diciamo così, il ritorno a The Ant-Man. Perché Ant-Man, se avete visto Ant-Man e The Wasp, era entrato in un altro universo, era andato, non mi ricordo adesso, perché non me lo ricordo tanto Ant-Man e The Wasp, però era rimasto bloccato in questa dimensione alternativa, in questo spazio-tempo, era rimasto bloccato lì, perché appunto la sua compagna e il padre appunto della Wasp, dovevano farlo tornare indietro, ma a caso dello schiocco dell'Eta di Tano, sono scomparsi. E quindi è rimasto lì, e a caso di un topolino, che schisce a tasti a casa nel suo furgone, lui torna e non trova più nessuno, vede che è successo un casino, e da lì appunto viene in mente l'idea dei viaggi del tempo. Parlare un po' di questa cosa è un po' complicato, quindi non lo farò, però io me lo immaginavo che avrebbero optato per la manipolazione del tempo. Non c'era, non c'è altro modo, oltretutto, per riportare indietro tutto quanto, insomma per rimediare al danno che Tano s'ha fatto. E appunto la cosa bella comunque di questa scelta di usare appunto il tempo come soluzione è vedere un po' tutto il cerchio che si chiude, perché nel senso torniamo alla battaglia di New York nel primo Avenger, vediamo appunto poi anche Tony avere un confronto col padre ancora più indietro nel tempo, vediamo di nuovo l'inizio dei Guardiani, del primo film dei Guardiani della Galassia, insomma tutto l'universo Marvel che si unisce, quasi tutto l'universo Marvel, che si unisce in un unico film. Naturalmente ci saranno anche delle perte, non vi dirò chi, però una mi ha straziato davvero, mi ha straziato che secondo me è quella più importante, proprio quella che va a chiudere completamente il cerchio, ma ne parleremo dopo. E' stato bello, interessante, poi vediamo comunque che ci sarà, non è che sarà tutto rosa e fiori, perché appunto il Thanos del passato, attraverso la nebula del passato, perché è collegata con quella del futuro, vede i piani del nemico, e quindi qui si darà anche al via, loro recupereranno tutte le gemme, come potete intuire, metteranno le cose a posto, però c'è il però, perché comunque la nebula del futuro viene catturata e sostituita con la nebula del passato, che desidera compiacere Thanos, anche se lo odiava comunque, e vediamo appunto il Thanos del passato, arrivare nel nostro tempo, nel tempo insomma degli Avengers, e fare un macello insomma. Poi ecco, mi sono dimenticata, vedremo anche un Hulk completamente diverso, anche io con questa cosa, diciamo che non, sì, ha un senso, ma non è che mi abbia sconfifferato tanto, vedere Bruce Banner, che è diventato appunto un incrocio, tra Bruce Banner e Hulk, perché appunto Hulk in Infinity War, non voleva più uscire, quindi Banner non ha trovato un'altra scelta che unire finalmente, i suoi due esseri, in un unico, in un unico, in un unico involucro. Quindi ha i muscoli di Hulk, ma l'intelligenza di Banner, è un Hulk Banner, ecco, chiamiamolo così, e sarà lui appunto, perché lui è l'unico abbastanza forte, tra gli Avengers, a reggere l'energia delle 6 gemme dell'infinito, a schioccare le dita, e rimettere tutto a posto. E qui diciamo che con l'arrivo del Thanos del passato, abbiamo, diamo il via alla più epica di tutte le battaglie, perché vediamo non soltanto Thanos, che è un esercito della Madonna, vediamo finalmente Steve Rogers, riuscire a usare il martello di Thor, perché Thor andando nel passato, per recuperare una delle gemme, quella che era finita dentro Jane, aveva ripreso il martello, e l'aveva portato nel passato, vediamo poi un Thor, veramente io, l'hanno stereotipato, fisicamente, in una maniera, non è che mi abbia sconfifferato tanto, perché già Thor era un personaggio, un po', un po' così, poi qui l'hanno sminchiato del tutto, per quanto mi riguarda, però vabbè, fa comunque il suo, il suo dovere, vediamo Steve appunto, che maneggia Mjolnir, come cacchio si pronuncia, non ne ho la più parola di idea, ed è stato interessante, perché in Age of Ultron, vediamo che lui, quando fanno la gara, a vedere chi riesce a sollevare il martello, lui è l'unico che riesce a smuoverlo, anche se non di un minuto, infatti vediamo Thor che dice, e che cazzo è? Com'è che lui riesce a smuoverlo? Non c'è nessuno che ha riuscito a smuoverlo di un millimetro, lui di un millimetro però riesce, quindi effettivamente Capitan America è l'unico abbastanza degno di usare il potere di Thor, anche perché comunque Capitan America diciamo che tra tutti gli Avengers è quello con la moralità maggiore, perché lui è proprio un soldato e ha sempre combattuto per la libertà per il proprio paese. Appunto vediamo questa battaglia abica in cui poi rivediamo tutti, proprio tutti i personaggi dell'universo Marvel, rivediamo i guardiani della galassia, Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange, le Valkyrie, c'è anche Gamora che comunque era morta nella Gamora del passato, tutti quanti un esercito di gente e si dà il via a una delle battaglie più epiche della storia dell'umanità. C'è anche Pepper Potts in versione con un'armatura Rescue, con il nome e codice Rescue, e c'è una scena in particolare che mi è piaciuta molto perché è totalmente Girl Power, perché a un certo punto arriva Capitan America che proprio butta giù una nave come se fosse un burro, e vediamo appunto Peter Parker che le dà il guanto che hanno creato con le Gemini dell'Infinito perché devono riportarle nel loro tempo, e vediamo appunto lei che prende il guanto e tutti i personaggi femminili che la circondano per aiutarla, rivediamo appunto anche anche Wanda, che è tornata anche lei, e vediamo tutte appunto queste femmine bedesse che io ho pensato minchia Girl Power per sempre, fantastica, una scena fantastica, per poi arrivare al finale che chiude effettivamente il cerchio, chiude effettivamente il cerchio. Io non so se voi l'avete visto, però vi posso assicurare che quella scena chiude definitivamente questo cerchio, cioè è proprio un ritorno alle origini e che ti spezza il cuore perché tu senti quella frase, vedi quella scena e il tuo cuore si frantuma dal dolore e dall'emozione, davvero, io ero al cinema, avevo i lacrimoni, c'era anche una signora accanto a me che piangeva tanto quanto me. Mamma mia, io sono uscita dal cinema che ero devastata dopo quella scena e vediamo poi appunto, diciamo che questo film segna anche l'addio a due personaggi, non solo a due personaggi molto importanti, perché chiudono proprio il cerchio, chiude il cerchio di due personaggi che hanno dato inizio a questo cerchio, che l'hanno aperto. E quindi adesso io, adesso poi comunque l'universo Marvel va avanti perché vediamo Thor che parte con i guardiani della galassia e vediamo Peter Quill, Star-Lord, che cerca Gamora perché lui comunque ha visto la Gamora del passato perché lui è rimasto devastato dalla morte di Gamora perché erano una coppia, erano effettivamente diventate una coppia e vediamo che la sta cercando, quindi io voglio pensare che il terzo film dei guardiani della galassia sarà incentrato anche sulla ricerca di Gamora perché comunque non posso dirvi che cosa è successo, però secondo me sarà così, vediamo Thor appunto che si unisce ai guardiani della galassia lasciando alla sua amica Valchira nel cui non mi ricordo il nome il comando degli Asgardiali vediamo appunto anche ci tornerà anche il soldato d'inverno e tutto rivedremo insomma su questo film racchiuderà tutti quasi tutti i personaggi dell'universo dell'universo Marvel e la cosa bella che potrà sembrare una stronzata sono i titoli di coda perché nei titoli di coda appunto vediamo tutti quasi tutti i protagonisti dell'universo Marvel in generale tutti quanti perché comunque tutti hanno fatto una comparsata in questo film tutti sono apparsi ma la cosa che davvero mi ha stretto il cuore in una morsa è stato che gli ultimi a essere mostrati sono gli Avenger originali con il nome dell'attore e il loro autografo e la loro immagine questo veramente mi ha mi ha emozionato perché si va proprio a chiudere effettivamente il cerchio degli Avengers perché appunto vediamo Jeremy Lennar Scarlett Johansson Chris Hemsworth Mark Raffalo Chris Evans e per ultimo ma più importante di tutti Robert Downey Jr perché il ciclo Marvel è iniziato con lui è iniziato con Iron Man e è proprio lui a chiudere i titoli di coda di Avengers Endgame e secondo me è perfetto sarà una stupidata ma quando vedevo i titoli di coda che hanno fatto vedere tutti i protagonisti secondari e poi loro per ultimi cioè gli Avengers originali ovvero Occhio di Falco la vedova nera Hulk Thor Capitan America e Iron Man io ero in un brodo di giugiole cioè filsa manetta ve lo posso giurare è restato bello secondo me abbiamo anche mi pare che ci sia stato l'ultimo cameo di Stan Lee credo mi pare mi pare di averlo visto però magari mi sbaglio so che l'ha fatto in Infinity War si era riuscito a farlo perché comunque è scomparso quasi un anno che è scomparso Stan Lee ed è stato comunque un filsa manetta nel vedere questi titoli di coda non c'è una scena post credit in questo non c'è assolutamente perché è l'ultimo comunque come vedete l'universo Marvel continua perché ci sarà il terzo film dei guardiani della galassia che grazie a Dio sarà diretto ancora da James Gunn non so se è stata una bufala io non so se era un'opzione di marketing ma grazie a Dio lo hanno riassunto perché soltanto lui può dirigere i guardiani della galassia come si deve e poi ci saranno gli altri due film di Spider-Man ovvero il secondo che uscirà quest'estate adesso mi pare a luglio se non ricordo male e sono molto curiosa di vederlo e poi hanno già detto che ci sarà anche un terzo film di Spider-Man e poi basta penso che poi poi ci sono anche delle serie tv in cantiere ho visto che vogliono fare una serie tv con Wanda e Visione una serie tv su Loki c'è Marvel of S.H.I.E.L.D. Marvel's Age of S.H.I.E.L.D. quindi insomma diciamo che per quanto il ciclo degli Avengers sia concluso quello della Marvel invece continua ad andare ancora avanti perché comunque ci sono anche gli altri personaggi che secondo me hanno ancora molto molto da dare quindi possiamo solo stare a guardare e sperare che non facciano cazzate bene questa recensione barra la mia opinione si conclude qui io spero che vi sia piaciuto se non l'avete ancora visto in game state lontani da questo video io ho cercato di fare il meno spoiler possibile però se proprio non ne volete assolutamente seguite l'avviso che trovate a inizio video come sempre e ragazzi che altro posso dirvi spero che questo video vi sia piaciuto come sempre vi ricordo che nell'info box trovate tutti i miei link dei miei social Facebook Twitter Instagram venite a trovarmi seguitemi mettetemi like e mi fate tanto tanto contenta iscrivetevi al canale al blog se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche sui nuovi video e se questo video vi è piaciuto mettetemi un bel like e condividetelo mi sta andando via la voce io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video alla prossima recensione ciao a tutti